La visita del commissario straordinario del Governo per l'attuazione della misura del PNRR finalizzata al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura Maurizio Falco premia il Piemonte come modello positivo per la lotta a questa pratica. Il Piemonte, da quanto è emerso dal tavolo di confronto avvenuto al Grattacielo della Regione Piemonte e poi a Saluzzo, ha saputo attuare un modello strutturale di contrasto al caporalato attraverso un sistema integrato tra enti pubblici e privati, che potrebbe anche vedersi aumentare le risorse disponibili se non verranno realizzati tutti i progetti previsti a livello nazionale. Ad accogliere la visita del commissario la vice presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino con l'assessore regionale all'immigrazione e sicurezza Enrico Bussalino, all'agricoltura Paolo Bongioanni e alla montagna Marco Gallo. Il tavolo sul caporalato è un tavolo fortemente voluto dal presidente Cirio, ma che si occupa di dignità del lavoro, soprattutto nell'ambito degli stagionali a tutto tondo. A fine luglio c'era già stato un incontro in questi termini, perché l'idea fondamentale è che l'agroalimentare italiano è un'assoluta eccellenza. Ci sono pochissime realtà, ma che rischiano a volte di rovinare tutto questo avendo adeguata attenzione a quello che è anche la modalità di lavoro. Noi vogliamo contrastare tutto questo, noi siamo fermamente convinti e siamo particolarmente determinati proprio perché un prodotto per essere pienamente buono deve avere alle sue spalle anche la garanzia di lavoro degno e sicuro. C'è proprio il desiderio, anche culturale ho notato, di dare dignità a quei lavoratori che vivono in questo momento in condizioni non accettabili. Sono davvero felice di avere riscontrato dall'attenzione e dalle dichiarazioni delle persone che ho incontrato tutto quello che avevo letto delle carte. Faranno degli ulteriori protocolli che non devono essere delle carte da seccare un muro, ma devono indicare che azione si fa sul territorio.